segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te pace no è il titolo del del suo giornale tra l'altro lei in prima persona è stata anche presa un po di mira per aver espresso un'idea non voglio dire diversa un'altra idea rispetto a chi dice l'unico modo per aiutare gli ucraini è dare le armi certo e invece la libertà di costruire e di pensarla anche no con un altro in un'altra strada è importante soprattutto detto che non è non c'è un unico modo per resistere alla violenza e non necessariamente è sempre anzi ormai non è più una cosa concepibile giusta rispondere alla guerra con la guerra credo che ci siano altri mezzi e altre possibilità che vadano praticate queste sono dimostrate dalla storia che abbiamo vissuto negli ultimi gli ultimi 70 anni forme di resistenza non violenta alla violenza anche più atroce perché moltiplicare la guerra risposta guerra porta le immagini che stiamo vedendo e l'abbiamo viste per tutto il secondo dopo guerra novecentesco fin dentro i primi due decenni di questo secolo e ora del terzo negli conflitti che sono stati accesi da parti con belligeranti c'è sempre un aggressore c'è sempre un aggredito poi li definiamo in maniera diversa a secondo dei contesti e dei ruoli io non sto giustificando punti non l'ho spiegato più volte sono anche un po lo trovo anche stucchevole di doverlo dire di con uno dei giornali e interfaccia della dissidenza russa da molti anni abbiamo difficoltà a fare le cronache con i nostri inviati nostri corrispondenti proprio per questo lavoro sistematico di informazione su quelli che lavorano per la libertà e che denunciano anche i rapporti tra forze politiche del campo occidentale cosiddetto e il partito di putin sono stati primi a farlo in italia anche con un partito importante come la lega che poi ha cambiato la sua linea bossi a suo tempo seguiva altre strade salvini ha fatto una scelta precisa che ha in un'intervista da venire annunciato come ormai superata siamo gente che fa cronaca nella cronaca che facciamo c'è la constatazione sistematica di questo disastro che produce la guerra e dei fallimenti della diplomazia quando ci ritroviamo con dei tavoli negoziali su quali sono gli stessi elementi prima dello scoppio della crisi verticale e sempre che dimostra il che dimostra l'incapacità di usarli per costruire un percorso diverso il risultato sono il sicuro solo dire questo in ucraina come come altrove pensano iemen e altri paesi sono la sofferenza dei deboli e le fosse comuni le deportazioni di persone o la migrazione forzata delle persone la volta accade in europa e non possiamo fare a meno di vederlo adesso sta rientrando in gioco le nazioni unite stanno rientrando in gioco questo è una fase speriamo possa essere risolutiva perché ogni forma di escalation porta a quello che minaccia lavrov la guerra la guerra mondiale diciamo dall'inizio di questa vicenda come lo dicono tutti gli analisti più avvertiti tutti le faccio le faccio però una domanda che naturalmente le hanno fatto molte volte e comunque giriamo sempre intorno a quello come si fa a dialogare quindi a usare l'arma del dialogo e delle trattative dei negoziati con una persona che non vuole dialogare e questo è come quando ci troviamo davanti a qualcuno che non che non vuole smetta di picchiare un altro dice come si parla ma lo abbatti sappiamo che ci sono altre forme di forza sapete che io non sono un fan delle sanzioni eppure sono uno di quelli che ha sostenuto la necessità della chiusura totale dei rubinetti del gas anche che la forma più onerosa per le nostre società occidentali e con una partecipazione diretta dei cittadini però nella forma dell'autoriduzione radicale dei consumi cosa che personalmente faccio la settimana perché non voglio fare il piene carri armati del signor putin però ci sono comuni italiani reti di cittadini ha avuto un dialogo pubblico sulle pagine del giornale con una persona è un politico con quale abbiamo avuto opinioni diverse su tante cose come paolo utter per lanciare in parte è stato raccolto anche da città importanti milano torino ma anche nel nostro sud l'autoriduzione dell'illuminazione pubblica un grande astrofisico per piero benvenuti ha proposto prima ancora ha proposto questa soluzione dando gli anche un motivo nobile di uso diverso del nostro cielo da scienziato è uno dei più grandi astrofisici italiani del mondo viventi e insomma io credo che ci siano delle strade da battere che comportano l'assunzione di responsabilità dai cittadini non c'è bisogno soltanto di pensare che putino si pieghi con la risposta colpo su colpo e come stiamo vedendo gli armamenti che abbiamo fornito all'ucraina che sono concepibili in un'ottica in un'ottica di legittima difesa continuano a incrementare la guerra in mondo il mondo se uno mette più armi aumenta il tasso dello scontro oggi noi pubblichiamo su avvenire vedete a pagina 3 del giornale un rapporto sui dati del commercio di armi 2021 l'aumento delle armi che è stato presentato come la risposta della guerra d'ucraina è già in corso prima della guerra d'ucraina mentre sono in corso le altre guerre siamo passati da 1980 miliardi l'anno circa a 2113 miliardi aumentata ancora la spesa nel corso dell'ultimo anno con un ritmo che è comparabile a quello della spesa sanitaria in molti paesi lo supera questo è lo scandalo del mondo poi le guerre se non si accendono per caso si accendono perché ci sono interesse la rissa la russia uno dei paesi che ha aumentato del 2 oltre il 2 per cento le spese militari ma spende ancora meno di un tra un terzo e un quarto quello che spende l'unione europea aggregata poi parleremo più avanti anche dei co